ciao ragazzi bentornati sulla mia pagina e sul mio canale youtube in questo video vi voglio parlare di un esercizio che molto spesso non viene fatto allenare semplicemente perché si pensa che non abbia nessun tipo di applicabilità nell'evoluzione delle gestualità a corpo libero che volete andare a migliorare nel vostro percorso come atleti o come persone amatoriali che vogliono semplicemente migliorare in qualcuna delle skill ok per altri video potete andare a visitare il mio canale youtube dove potete cercare i video singolarmente potete anche iscrivervi al mio gruppo facebook privato dove tratto tanto altro materiale che viene reso pubblico solamente lì oggi quindi vi parliamo delle dip sulla sbarra singola allora mi è stato chiesto appunto in questo gruppo perché devo fare le dip sulla sbarra se tanto so già fare quelle normali e tanto so fare quella agli anelli la domanda aiuta da rigiro una volta che tu hai sviluppato un lavoro di base come mascolap agli anelli e vuoi andare a sviluppare un lavoro di forza più avanzato come per esempio in mascolap controllato la sbarra nel momento in cui tu mi passi la sbarra e arrivi in questa posizione come pensi di arrivarci alla posizione abbracciatese con uno schiocco di magia con la battuta con la bacchetta della fata turchina no si va semplicemente a eseguire una dip alla sbarra quindi andare ad allenarle prima di dover approcciare mascolap alla sbarra sicuramente può essere un buon modo per preparare i tessuti acquisire una buona tessuta di forza e eseguire confidenza e raggiungere confidenza con quelli che sono i cladi articolari che poi si propongono nel mascolap alla sbarra ok detto questo ho finito la lista dei video che volevo fare oggi e ci vediamo al prossimo appuntamento